Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie! Amadeus ha svelato i primi otto cantanti che si esibiranno al Suzuki Music Party il 22 settembre su 9. A differenza di altri eventi musicali, gli artisti presenteranno canzoni inedite in anteprima televisiva. Amadeus svelerà il resto della lista entro la fine della settimana. I Fiorella Mannoia, Emi Schilla, Baby Gang, Emma e Massimo Pericolo. Il cast sarebbe stato perfetto anche per Sanremo. Ecco la lista provvisoria. Anna, Tananai, Lazza, Fiorella Mannoia, Emma e Mi Schilla 7, Baby Gang 8, Massimo Pericolo 9,15. Amadeus ha dichiarato che la serata del 22 settembre sarà un appuntamento imperdibile per gli amanti della musica, con 15 artisti che presenteranno i loro nuovi successi autunnali in anteprima televisiva. Presto verranno svelati i nomi dei cantanti rimanenti. Durante la settimana verrà aggiunito con l'elenco complesito e accadrà essere assentata da Ilenia Pastorelli insieme a Amadeus. Non si tratta di tutto ma io ho una celebrazione.